Ci sta che l'ansia arrivi all'improvviso, ma impara a guardarla. Impara a vedere che l'ansia non è legata a quelli che tu chiami i tuoi errori, i tuoi sbagli. L'ansia la devi immaginare come l'onda del mare. A volte l'onda del mare sale, diventa alta. Solo che l'ansia la produci tu. Questa onda alta la produci tu. E quindi viene per sgominare un modo di essere che ti tiene ferma. C'è tanta ansia, che è tanto movimento, perché c'è troppa stasi. È esattamente il contrario di quello che pensiamo noi.